Innanzitutto un grande abbraccio ad Alex Zanardi che sta combattendo dal 19 di giugno una battaglia, la battaglia più importante della sua vita e sappiamo che ce la farà. Un convegno su bicicletta e sicurezza non poteva che cominciare con un pensiero per Alex Zanardi. Luca Gialanella, vice caporedattore della Gazzetta dello Sport, ha condotto l'incontro a cui sono intervenuti tra gli altri il capo della protezione civile Angelo Borrelli, il presidente della regione Stefano Bonaccini e il direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli. Il mondo della bicicletta ha una gran voglia di ripartire e il successo del bonus bici lo dimostra. La nota qualificante del bonus è che le biciclette che sono state vendute, non sono state vendute solo nei comuni a di sopra dei 50.000 abitanti che potevano beneficiare il bonus, sono state vendute dappertutto e nessun negoziante ha scorta di biciclette. Per cui questo è un momento straordinario per la bicicletta. La ripartenza sui pedali richiede sicurezza rispetto al Covid ma anche sicurezza sulle strade. Nel 2018 sulle strade italiane sono morti 219 ciclisti. Una strage inaccettabile, tanto più pensando ai bambini e ai ragazzini che imparano ad amare la bicicletta e lo sport con la Cooperatori e con le altre associazioni sportive dilettantistiche. Alla pista di avviamento al ciclismo del campo volo sono al sicuro, ma in strada spesso no. È alla loro sicurezza che ha dedicato buona parte del suo intervento Davide Cassani, che da commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo e da presidente della PT Emilia Romagna ha invocato anche la ripartenza delle competizioni agonistiche. Ho la fortuna di avere un presidente che da mesi si sta adoperando per far ripartire il mondo del ciclismo. Ormai sono diventato uno stalker di Gian Maria Manghi che ci sentiamo quotidianamente anche con il presidente perché siamo in una regione dove si cerca di fare le cose giuste con l'estrema cautela ma di farle e quindi io credo che siamo nel momento giusto per poter ripartire a fare sport agonistico con il controllo del caso.